Allora, visto che Leonardo non c'è, non c'è, tutti che giocano a questo Clash Royale, bauli omaggio. Mamma, che cosa stai facendo? Che fai? Sto guardando il tuo gioco. Perché le mamme non possono giocare a Clash Royale. Sì, però sei stata brava che hai aperto il baule omaggio, mi hai sbloccato una nuova carta. Posso giocare io al tuo posto? Sì, però il baule d'oro lo apro io. Va bene, siediti qua, allora, mi scendiamo a prendere la sedia. Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo episodio di Clash Royale. Adesso abbiamo aperto il baule d'oro e c'è uscito, se non sbaglio, e... Il cannone. Ah no, ragazzi, adesso ve lo faccio vedere quando mi sono finite le selezioni. Per uno di freccia, per quattro di goblin, per uno di sfera infuocata, per otto di sgarri e basta. Ah, e 87 d'oro. Più 87, non per. Andiamo. Dovete sapere che quando Leonardo è a scuola, di nascosto alla mamma, aumenta il livello di Clash Royale. Gioco. Però se perdo non ti devi arrabbiare. Hai capito? Non mi arrabbio, ma... Devo sbloccare questo qua. Vai. Io gioco, eh. Ragazzi, non so quello che succederà. Ci ha già giocato un pochino. Un pochino, però. Sì. Allora, vediamo. Dai, abbiamo giocato almeno due o tre ore insieme. Quella spara di continuo. Gigante. Quella spara di continuo. Guarda come spara. Cos'è quel lavoro, Ele? È una... Oh, oh, uno scaletri. Un barco X. Cavaliere. L'orta di scaletri. La uso subito, vediamo. Wow. Non fa tanto. Non fa tanto. Il cannone? Perché li stanno... Dove sono usciti quei... Te l'hai lasciato il barrio del goblin? Ce l'hai anche tu? No, non ci credo. Dov'è il barrio del goblin? Eh, non l'hai messo. Vediamo. Oh, oh, no. Mi hai fatto mettere un cannone che si rompe subito. No, 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 no. Ma tutti si distruggono. No, 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 no. Mi piace. Preferivo prima cosa avevo la palla di fuoco. Forse era meglio. Non ti mangiare le unghie, giovanotto. Eh, nia, nia, nia. Sei fatta. Hai visto? Sì. Pum, ah, mini petto. Adesso, adesso? Io, io invece... Adesso? Mongolfiera? Sì. Vai con la mongolfiera. E mario del goblin? No, 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 no. No, 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 orda di scheletri. Qua li posso mettere qua, l'orda di scheletri, chissà. No. Ho vinto! Io non ti ho vinto! Hai visto? Sì. Comunque, siamo in arena. Fatti un altro mazzo. No, 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 mi piace questo. Hai detto... Però non mi piaceva... Il camone? Non mi piaceva, sì, quel camone. Ah, mamma, il barrile goblin. Lo vuoi anche tu? Sotto. Dov'è? Lì. È livello 1? Eh. Perché in quell'altro... E quant'era? Sei goblin. È epica! Non la possiamo migliorare? No. Senti, pala di fuoco. Al posto del cannone, che dici? Ah, guarda, ho messo i goblin a cielo a livello 7. Sono forti. Comune. Dagni il secondo 31. Sono forti. Proviamo a mettere i goblin, eh? Eh, io... Mamma, prova... Al posto del cannone. Prova il mazzo di... Prova il mazzo che ho fatto io. No, non mi piace. Mamma. Voglio questo, è il mio. Non mi trovo. Lo so, però... Ma no, giochi tu col tuo mazzo. Io non mi trovo. Fanne uno con le carte forti, tipo... Tutte le epiche. Questo. Cioè... Che ci vuoi mettere? Che ne so, la epica e la strega. La strega? Puoi fare le litigate con la strega? Nel tuo mazzo. No, nel mio mazzo, il mio mazzo lo voglio così. Non lo voglio toccare. Ah, ok. Perché non mi trovo. Altrimenti... Che ci vuoi che io ci metta? Non lo so. Questo non serve, proprio un tubo. Perché ho visto adesso... Non serve. La furia non serve. La lapide... Un attimo. Punti ferita 2,90. È forte. No. No. Ti devo far vedere una cosa. Questo è un po'. Questo è carino. 897 punti ferita. Un attimo. Fa danni. No, non fa danni. No, non fa danni. E se una cosa... Vuoi provare i barbari? Dove sono i barbari? Su? Questi? No. Questa è la capanna. Dove si creano. La voglio usare. Voglio fare una partita con questa capanna. Eh, devi cliccare una. Che stai facendo? Ce l'hai nel mazzo. Ma io non voglio cambiare il mio mazzo. Allora... Allora, la voglio mettere al posto del... Di questo. Anche se è a livello 7. Sono tre di quelli, eh. Di questi? Dei questi? Sì, sono tre. Gli scheletri muoiono subito. Scusami. No, ho visto che muoiono subito. Voglio gli scheletri. Voglio questo al posto degli scheletri. Io c'erano... Una torre la fa fuori subito. Voglio vedere. Vado. Ma... Vediamo, proviamo. Non l'ho mai usata. Non hai lasciato il cannone, vero? Forse. Hai lasciato i goblin non c'eri. No, io vengo ancora indietro. Allora. Uno, due. Ma perché li metti là? E dove li devo mettere? Sui ponti. Ah, li devo mettere sui ponti. Scusa. Scusa. Sul ponte. Sul ponte. Ma no, quello è il droghetto che vola. Ah, vola anche. Ho capito. Gigi, mi è. No, quel di Gantano mi piace brutto. È un ciccione brutto. Dai, 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 dai. È a livello tre. Tu ce l'hai a livello cinque. Un altro gigante. Un altro? No, 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 no. Io sto perdendo, eh. Il mio pecchia non fa tanto, eh. Io sto perdendo, eh. Te lo dico. Il mio pecchia non fa tanto. Vabbè, un altro compo. Cosa sta facendo? Questo che cos'è? La capanna. Dove la devo piazzare? Toglie sette lisir. Wow. Eh, va bene. È talmente forte che toglie sette lisir. Tre, quattro, cinque. Dai, dai, sei. Sei. Ti consiglio di mandare un mambolfiero. No, 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 no. Sette, la metto qua. Guarda. Vabbè, non so che fa. Lanci i barbari. Automaticamente. Senza che tu spraghi i ricatti. Ah, però vogliono subito sti barbari. Scusami, e perché non li lancia? Ah, li sta lanciando. Eccoli. Mambolfiera, gigante, gigante, tre. Manda subito la mambolfiera, appena hai tempo. Devo mandare questo. Mi becca. No, il bombarolo. Ma dai, il bombaroloazzo. Ma perché fa così? Io devo vincere. Elisir per due. Puoi fare la combo. Lui e lui. Lui e lui. Lui e lui. Lui e lui. Sei, sette. No. Otto. No. E che posso farci? Lo distrugge. No, no, no. Lo distrugge. E che cos'è che vuoi? Mi sta uccidendo? Volevo che tu facessi la combo d'arghietto e mambolfiera. E non ci arriviamo. Ci fa fuori. C'è Elisir per due. No. Dai, aspetta. Sette? Sicuro? Sì. È Elisir per due. Dieci. Qual è? Mongolfiera? E gigante? Giorghetto! E vabbè, non ho messo il gigante. Ah, è uguale. Mi sta uccidendo. Non è uguale, il gigante è lento. Scusami. E tu lo metti anche dentro. Ah, ho deciso anche l'altra torre. Ben ti sta. Ben ti sta. Dai, che ce la posso fare? Non ce la faccio? È solo in mezzo. Eh, adesso ci arrivo, non preoccuparti. Chi ha vinto? Lui. Sì. Ha vinto lui? Sì. Il tempo è scaduto. Coniglia. Com'è che ti dice Nanno Pecoro? Sì. E tu sei una straconiglia. Peggio di più, ma. Gliusso. Tocca a me. Eh. Ah, però abbiamo 832 coppe. Ciao. Ciao. Dai. Dai. Fai da col tuo macchino. È il mio. Togli le mani dalla bocca. Coniglio. Cos'è quella cosa? La capanna. Mi bagla. E dai, che stanno arrivando? Non c'è. Non c'è. Dove metterla. Dai, dai, dai. C'è il goblin. Non c'è il goblin. C'è. C'è, ma non c'è. Goblin la c'è. Così, dai, dai, dai. Così, dai, 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 dai. Dai. La, 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 la. No. Si. 8, 9, 10 Ti stanno rompendo la torre Vabbè io gliel'ho rotta Ti sta attaccando il re Va bene ma gliel'ho già rotta io Guarda guarda Io così mi distruggando E' fortissimo il mio principe Guarda Mi sta distruggendo la torre del re Che ha ucciso il principe Ma io Io mando un cavaliere E mandai anche un gigante Ma no anche un gigante Perché perdi tempo E poi mando anche i capricorncieri Ma lui che cosa sta aspettando Il combo Il gigante Dai dai gigante Dai no devo mandare il principe adesso Vai cinque gigante Lanciagli qualcosa Lanciagli qualcosa Mangolpiera 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 Guarda come corre il suo cavaliere E anche il mio corre così Yeee Grazie 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 Io ho finito Tu ho matto Vado eh Proviamo Sette Vado tu No fai la doppia combo con loro Lui E lui Io adesso gli mando anche questo E gli mando anche 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 Fai il bravo Ma 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 Cosa sta facendo Draghetto Mando anche tu il draghetto 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 Aspetta cosa gli mando Gli mando questa Questa cos'è la Dai no No Gigante No Mangolpiera No Combo Quale Si Mangolpiera e principe Yes Nove Anche lui Dieci Eh lo so Solo che adesso Lui l'ha persa Già questa torre Si Un corpo Già della Mangolpiera Ok Dai che andiamo Adosso al re No vabbè Adesso Adosso al re Ce l'ha fatto Dai guarda guarda il suo re Come cana Yeah Ehi Ehi E' più brava la mamma Sono più brava Sono brava Anche io Dov'è la tua No Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao